Un'esperienza nata in scena quando i giovani della compagnia Nest, attiva nella zona orientale di Napoli, hanno rappresentato lo spettacolo Gli Onesti della Banda, nel rione Villa di San Giovanni a Teduccio. Da lì la volontà di compiere qualcosa per i giovanissimi abitanti del rione e la messa in moto di un meccanismo virtuoso che ha permesso, insieme alla Fondazione Maiert, la riqualificazione del campo di gioco, tornato fruibile per i bambini e gli adolescenti. Ascoltiamo Francesco Di Leva, direttore artistico della compagnia. Questo progetto rientra praticamente nella nostra linea programmatica, che è quello del Nest Napoli Est Teatro, dove fanno un lavoro sul territorio ormai da quando è nato il Nest, che sono all'incirca sette anni. E questo progetto ha visto il coinvolgimento di varie parti, tra cui il Napoli Teatro Festival, perché grazie a loro siamo venuti a fare uno spettacolo qui all'interno di questo campetto. Grazie alla Fondazione Maiert che poi hanno dato appoggio a questo progetto per far sì che questo campetto rivivesse delle proprie qualità, tra cui strisce, porte, reti e quant'altro, perché noi crediamo moltissimo sull'aggregazione dei giovani e un campo da calcio in questi quartieri è qualcosa di fondamentale. Intervenuti i membri della compagnia Nest, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino. Le chiacchiere stanno a zero, sono i fatti, quelli che contano, a noi oggi piace essere qui, inaugurare questo campetto, per noi insomma il progetto artistico del Napoli Teatro Festival in qualche modo si è chiuso con la realizzazione dello spettacolo, ma per noi il progetto si chiude oggi, si chiude oggi con la consegna e con l'inaugurazione di questo campetto a San Giovanni, a Teduccio, a un quartiere complicato e difficile come questo qua appunto del Rione Villa e siamo veramente felicissimi ed orgogliosi di essere riusciti in questo progetto. Una funzione sociale vera del teatro che riesce ad unire un qualcosa di, come diceva Adriano prima, di concreto. Grazie ad uno spettacolo c'è uno spazio per i ragazzi che oggi è ritornato a vivere.